Bella ragazzi sono Cocca ed eccoci qua tornati in un nuovo video in coro video di Ghost e si proveremo un bellissimo tutti contro tutti per sentiti felici, per sentirci soddisfatti dato che in questo periodo, dato che gioco abbastanza poco, si abbastanza poco, mi sento veramente male, mettiamola così, gioco poco e quindi le partite molto spesso non sono questo cranché, però non ci posso fare niente vabbè, oggi vediamo come va, l'onibager non è colpa mia scusate, non volevo, però, ma che mi piace particolarmente, no dai adesso proverò a mettere video diversi, cioè non sapevo con queste armi, perché poi serve tutto relativo perché il secondo video mi sa che faccio con questa, perché c'ho avuto l'arma a caso che ho beccato a questa, non è stata colpa mia, e si diciamo che quel video lì mi ha fatto capire che quest'arma è veramente forte, intanto qua non troviamo proprio nessuno bene, adesso noi iniziamo, iniziamo a commentare, non c'è nessuno, e non sento neanche passi, no, non sento nessuno, vabbè, oh, tu sei mio, no, prendilo, pipe marker, vabbè, non importa, noi siamo ancora qua ragazzi, noi non ci muoviamo, sputa fuori te, io c'ho paura, però non vedo nessuno, perfetto, perfetto, occhio, passi, 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 ok, perfetto, set, come, ready, ok, vabbè, tipo, dove siete? dove siete? vi sento io, vi sento un po', punto ottenuto, io sento, ah, ecco, ecco, sentivo l'acqua che si muoveva, passi, 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 ok, pezziamocela giù, in un modo molto tattico, e, dove sei? sotto di me, sì, 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 ok, perfetto, io odio i camper, sì, io li odio con tutto me stesso, quelli che si mettono lì in basso, e aspettano qualcuno, e, però a questo momento sto anch'io, non so se sto camperando, non so come lo considerate voi, questo, ok, sì, sì, perfetto, e noi non ci perdiamo d'animo, e continuiamo la nostra serie, vediamo un po' come va, perché, ora come ora, dato che sono qua, voglio ottenere la mia, che schifo che faccio, la mia cam, quindi, finché non muoio, mi sa che non tirerò l'elicottero, vediamo un po', ci ragioniamo sopra, perché, ovviamente, qua gli MS, me la tengo, però vi ragioni, diciamo, che mi può salvare la vita, l'elicottero non è che mi salva la vita, mi da solo qualche uccisione in più per arrivare al mio obiettivo, e tu sei ancora là, dall'inizio della partita, e non mi va bene, e non mi va bene, oh, no, 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 sì, ecco appunto, appunto, 12, 12 in zero, noi ci potremo anche avvicinare a questo nostro obiettivo, per una volta tanto ce la faremo, forse, ogni tanto devo mandare qualche occhiataccia brutta, tipo, per farvi capire come mi sento, no, 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 è in fondo, lo prendo, lo posso prendere, lo prendo, no, affanculo, chiamiamo giù l'elicottero, adesso inizio, cioè, mi fa spawnare qua, e con uno lì fermo, bellissimo, e adesso iniziano le nostre serie, di morti, come al solito, perfetto, ce l'ha preso il nostro elicotterino, no, non ne ha nessuno, pensavo fosse tipo un corpo, li dis... peso, perfetto, ricarica il volo, ricarica, 17 euro, partita abbastanza carina per adesso, però può succedere di tutto, come al solito, adesso tipo sicuramente morirò dieci volte, quando sono tipo a 29 di fila morirò almeno quattro, quattro volte ce le muoio, secondo me, perché succede sempre così, faccio belle partite, e poi, e poi tutto ad un tratto, che succede, che succede? Muoio! E me l'ha buttata giù, appunto, esci fuori, eeeh, oh sei, sei, tipo, ho fatto sì, come dobbiamo morire in modo così insulso, e tu sei ancora là, dimmi di sì, cioè sì, quello sì, ah, sei quello lì piccolino, ok, perché non si vedeva, anche lui mi aveva visto, adesso, no, pensavo ci fosse del cecchino, ah, c'è qualcuno qui, sì, qualcuno c'è, spunta anche te, spunta, spunta, no, stiamo ben tritti, con i posti, tu sei dentro, e l'uccisione me lo dai, eeeh, ok, ok, la partita sembra avvincente, sì dai, IMS, di solito quando chiamo l'IMS, spunta, serve qualcuno, e gli si uccida, molto spesso, anche l'altra volta è capitato, cioè perché sto dicendo, non è bella come cosa, perché ci sono sti camper qua, danno fastidio, danno fastidio, ok, andiamo a prendere quello lì, prendiamoci, ok, fine, salto, ok, si spunterà qualcuno al 2000%, ma vedi che mi devo suicidare, l'avevo appena detto poco fa, non è giusto, non mi dà fastidio, basta, 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 ero tentato, ragazzi, io non so cosa dire, spero che il gameplay mi sia facciuto, ci vediamo in un prossimo video, ero tentato proprio da prendere e uscire, che c'è, uno, due, ah, quattro, quattro, uh, devo concentrarmi, devo concentrarmi, dai, 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 uccisire multiple, ce l'abbiamo fatta, che reaction, e dammela, uh, anche uno, dai, ci rimango male, però, mi posso offendere, vabbè, una quadrupa, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, anche se faccio tipo un... grazie a tutti